brave and beautiful trama puntate mercoledì 8 giugno 2022 suana un confronto con cesur durante il quale si scusa per le numerose menzogne che gli ha detto infatti aveva anche finto di essere stata sequestrata la corludag ormai consapevole di tutte le menzogne del padre dice a cesur che ha un'altra cosa da dirgli finalmente suan confessa di non aver mai abortito e comunica all'uomo che quando andò in ospedale cambiò idea all'ultimo momento e rinunciò ad abortire intanto tassen inizia ad operare affinché il disco che possiede sirin non finisca nelle mani del procuratore corludag contatta rizza il quale si mette immediatamente all'opera e contatta turan chiede a quest'ultimo di aiutarlo ad organizzare un piano che coinvolgerà anche l'infermiera necla proprio mentre sta per raggiungere il commissariato infatti sirin riceve una telefonata dall'ospedale la giovane viene informata del fatto che sua madre reiana ha avuto un malore ovviamente si tratta di una falsa informazione per portare a termine questa manipolazione sirin rinuncia all'idea di andare subito a sporgere denuncia e si reca prima in ospedale una volta arrivata nella struttura la ragazza viene avvicinata da necla quest'ultima le offre un bicchiere d'acqua che contiene dei rilassativi a quel punto sirin è costretta ad allontanarsi ed andare in bagno affidando la sua borsa necla e 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